Ah, buongiorno! Sono le 7 del mattino se state guardando questo video, ovviamente se avete cliccato sulla notifica, cliccate sulle notifiche e fate i bravi. Signori, un'altra patch è arrivata, un altro set di modifiche è arrivato e che dire, è un momento che letteralmente non ci dice niente, la 11.12 è un vuoto esistenziale di patch. Serio, sono due settimane in cui non cambierà letteralmente niente per la maggior parte di noi. Sono nerf principalmente mirati al pro play, la cosa positiva e la redeeming value di questa patch è che c'è il rework di moon, almeno quello. Dici, almeno c'è qualcosa da vedere nel rework di moon, dici, bene, contento, possiamo testarlo finalmente su server live e vedere come gira, vediamo come funziona questo campione ora che è arrivato su server live. Magari farà cacare, poco importa, almeno c'è qualcosa da provare. Per il resto i cambiamenti sono tipo tutti ok, niente roba troppo esagerata, però ok, che dire signori e signori. Prima di immergerci a guardare quelli che sono i cambiamenti di questa patch vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace al video se vi è piaciuto, commentate sotto se avete dubbi o domande che volete farmi e taggatemi perché ragazzi io sono qua apposta disponibile per voi a rispondervi. Poi quanto riguarda League of Legends tutto quanto, davvero tutto quanto. Let's go! Prima di cominciare vi ricordo come sempre che le skin escono il 10 di giugno alle 22, escono sempre il giorno dopo la patch ed escono sempre alle 22, è così ormai da 7 anni e mezzo, quindi dai, dai, dai! Come dicevamo, Mundo viene reworkato e per tutta la durata della patch 11.12 e la 11.13 potete comprare ogni singola skin che Mundo ha mai avuto nella storia di League of Legends, se siete interessati, quindi a video è viva. Molto carino come rework, lo ho analizzato in un altro video, se volete andarlo a guardare fa solo che piacere, se no non preoccupatevi, è abbastanza simile a prima, ci sono alcune cose che sono molto carine e molto interattive, però non sembra essere estremamente forte. Il signor Aphelios! Ma salve! 4 di resistenza magica in più, che di base sono fantastiche come statistiche bonus per lui, soprattutto in una lane in cui il danno magico deriva principalmente dai supporti, ma molti AD Carry hanno sia danno fisico che magico, quindi solo che è buona avere un po' di resistenza magica in più in early game. Circa una decina di 10.2 di AD a livello 18, non è male quando arrivi in late game, ai 10 di AD in più, nessuno è triste di questa cosa, ma la parte più intrigante è sulla Q. Allora, uno guarda e parte con questo nerf, con questo buff, e dice questo è un nerf. No, è un buff, è solo dato che è un po' contorto il modo in cui è fatto. Allora, tu tiri effettivamente meno autoattacchi dalla Q, quando tu hai il Severum in mano, l'arma che ti cura, e tu premi il tasto Q, fai quel più 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 spari 2000 proiettili e ti curi di tutto il danno che vai a fare. Adesso spari meno proiettili, perché effettivamente scala peggio con l'attack speed, ma i tuoi proiettili fanno, invece che da 10 a 30 danni, fanno da 10 a 40 danni, quindi 10 danni flatti in più, una volta arrivata la fase finale di partita, e hai uno scaling aumentato nella fase più avanzata di partita. Quindi è un buff al suo late game, è un momento in cui raggiunge quelle soglie di partita, non è messo per niente male. Allo stesso tempo vedi nerfato invece il sustain dagli autoattacchi singoli. Immagino che sia fatto apposta per portare più le persone a usare la sua spell, invece che semplicemente avere l'Uragana di Runan e il Severum per potersi curare il più possibile. Posso comprenderlo, allo stesso tempo un po' frustrante. Perché vogliono fare questa cosa? Perché vogliono, uno, che faccia il grosso del suo danno dall'attivabile della Q, e due, che si curi anche attraverso l'attivabile della Q, perché? Perché la cura dalle abilità invece sale del 10%, quindi in early game non sarà troppo diverso. Allo stesso tempo, quando tira spell, allo stesso tempo nelle fasi più avanzate invece è molto più potente. Qui sembra un 3, è un 3, oh mio Dio, pensavo fosse un 9 ma lo leggessi... Oh wow, invece no, è il triplo dall'abilità. Non è incredibile comunque, perché è comunque un danno on hit che... Non è malvagio, ma non è neanche wow da dire incredibile. È molto buona come cura in early game. Adesso l'early game quindi non ti curi dagli autoattacchi, ti curi molto... cioè a prescindere ti curi sempre meglio con l'abilità della Q. Ok, non male, non male. Lo fai... la rendi un'arma molto più basata sull'utilizzo delle spell piuttosto che sull'utilizzo degli autoattacchi. Mi piace. E il crescendo, ma anche essa, viene potenziata invece la sua forma torretta. 6 danni in più in early game, più 15 danni in late game, più 5% del scaling dell'attacco bonus, dell'AD bonus, attacco fisico bonus, che invece da 35-50 passa a 40-60%. Questo è un buff a tutto tondo sull'utilizzo delle torrette. Non male, è un'ottima arma questo modo quando utilizza torrette, a prescindere. Vedremo, vedremo, perché ho come la sensazione che non sia così... Cioè, non è totalmente opprimente, è molto forte come buff, ma non è che dici, oh mio dio, adesso Aferios è tornato, è god tier. Sembra molto forte però. Secondo me sarà, tipo, è quel classico situazionalmente forte che quando lo trovi contro ed è messo bene è turbo busted, ma in quelle situazioni in cui riesce a punirlo bene invece non percepirai troppo la differenza. Ecco, mettiamola così. Ho molto scherzato nelle patch veloci su questa modifica di Draven. Questo buff a Draven, questo buff a Draven è strano. Allora, allora, uno guarda e pensa, ok, sono 5 danni in più l'appo, non puoi tirarmi su una narrativa sul fatto che questo è un grosso buff o una grosso modifica. Ok, sono 5 danni in più su ogni ascia, Draven di solito ne ha 2, quindi sono di base già 10 danni in più, perché? Perché tu ti ripiuto attacchi e se raccogli non sono soltanto 10 danni perché ti entrambe le ascia, ma poi diventano 15, 20, 25, 30 e così via e così via. La cosa che mi fa più paura è quello 5% di scaling in più sull'attacco fisico bonus, perché Draven è un campione che vuole accumulare una tonnellata di attacco fisico. Più ne accumula e più diventa pericoloso. E man mano che vai avanti, man mano che vai avanti, quelli non sono 5 danni in più, non sono più quei 10 danni in più da entrambe le asce, sono 20, sono 30, sono 40, vuol dire che in un teamfight diventano centinaia di danni in più una volta che prendi vantaggio. E che è buono, Draven sta perdendo da Vayne, quindi dovrebbe farvi capire quanto è messo una merda. Allo stesso tempo penso, forse partire dallo scaling del bonus a D e basta era meglio, o soltanto dal danno flat e poi decidersi se arriva a farlo, invece che metterle in combo. Però è molto forte sulla carta. Voglio vedere, devo vederlo in live per capire quanto possa essere potente, perché Draven non è molto contento di questo rework degli oggetti, non è mai stato molto accomodato, ha avuto una fase iniziale con gli oggetti da letalità e poi è andato un po' a calare. Diciamo che gli oggetti da letalità sui addi carry ci sono Varus e Sivir, persino Ezra l'ha smesso di farli perché adesso il suo miglior amico è il Divine Sunderer, non giocate più Dracta a Ezra, giocatelo con Divine Sunderer, e basta e desfac, letalità sono rimasti letteralmente Varus e Sivir. Nemmeno Miss Fortune, Miss Fortune va di critico da quanto adesso lo riesce a sfruttare meglio, il che è assurdo ma purtroppo ragazzi è così, statistiche alla mano vince di più tutto quanto con il critico, tranne Varus e tranne Sivir. Fine. Gnar 2D meno... Stanno continuando a nerfare Gnar, sebbene... Allora, Gnar è diventato così forte perché la Riot ha continuato a buffarlo allo sfinimento perché i pro player non lo piccavano. Poi è diventato rotto e allora hanno detto vabbè lo giochiamo tutti quanti. Perfetto, hanno cominciato a nerfarlo e nerfarlo e nerfarlo. Siamo arrivati a questo punto in cui gli stanno continuando a nerfare cose perché la gente in pro player continua a piccarlo. Io non sono per l'essere drammatico ma penso sinceramente che i pro player devono anche imparare a giocare a qualcos'altro. Nel senso, ok, Gnar è forte, Gnar è fastidioso, raga ci sono tanti modi per gestirlo. Il fatto che non ci sia nemmeno il tentativo di provare a proporre un'idea, una risposta a Gnar, sincero, a me dispiace, però è brutto vedere che molti pro player si incantano su certi campioni, anche quando non sono più così totalmente busted. Cioè Gnar era forte, adesso è buono, in competitivo è buono, perché il solo Q è tipo, non dico garbage, ma è veramente difficile giocare a furia di nerf che ha subito, e quindi sei lì che dici, boh, ok, raga, che vi devo dire? Cioè, continuano a nerfarlo ma hanno paura a nerfarlo in più perché sennò diventa letteralmente inutile in solo Q. Diventa tipo un campione da 35% di win rate e in competitivo 50% spaccato. Perché? Perché continuano a giocare Gnar, i pro player. Palle, sinceramente. Ekarim, continuano invece a baffarlo Ekarim, dopo quella che è stata la sua fase di morte. Non comprendo bene per quale motivo stiano aiutando così tanto. Ekarim non è messo male adesso. Ekarim è su quel solido 49-50%, che vuol dire che proprio nello sweet spot di bilanciamento perfetto, gli danno di nuovo 3D armor, gli danno 10% di scaling sulla D in più sulla Q. Che ok, non sono cose che vanno a inficciare pesantemente. Non lo so, penso che non sia necessario tutto qua. Non comprendo questo canimento nel baffare Ekarim dal nulla. E poi c'è questo, cioè, che appassano dal fare dei buff che non sono necessari a fare dei buff che non sono utili. Che cazzo vuol dire 170 mana in più a livello 18? Oh wow, il Laoi in late game ha problemi di mana. Boy, abbaffiamole il mana per livello. Raga, è letteralmente un campione che... Lei preme R e te ne vai. È finita la sua fase di forza. Ti prende con il tentacolo, esci fuori, aspetti che i tentacoli se ne vadano e colpisci poi i tentacoli che sono rimasti. Cioè, l'unica cosa che ha che funziona in Laoi è quel furto dell'anima e poi ti picchia. Sì, è fastidioso. Sì, è frustrante in fase di corsia. Sì, è qualcosa che letteralmente è punibile, assolutamente. Perché se lei spreca la sua E vuol dire che è il tuo momento di combattere e di ingaggiarla, ma molti non lo fanno. Ha sprecato la sua E, è il momento di tirare giù quei cacchi di tentacoli. E quello è il punto. Nel momento in cui il Laoi ha così tante palesi debolezze e funziona soltanto dal plat in giù. Porca miseria, non è che se tu buffi il mana allora hai risolto i problemi di Laoi. È un campione che letteralmente dovrebbe essere proprio preso, distrutto e ricostruito da zero. È proprio me, proprio me come campione. Jarvan. Allora, sembra un buff gigante sulla carta perché uno dice Cacchio, gli hai tolto il 25% del cooldown della W. È uno scudo che rallenta ed è tipo Ok, quante volte lo attivi in un team fight? Perché loro dicono Gli diamo più incentivi per rimanere in battaglia e continuare a proteggere i suoi alleati. Perché rallenta tutti quanti e quindi possono continuare a combattere meglio. Fantastico, in una build ideale in cui hai... Dai, mettiamo... Siamo ottimistici. Il 30% di cooldown reduction attraverso l'ability haste ovviamente Vuol dire che da 9 secondi scende a... Oh, col 30% si parla di 2 secondi e 7 in meno. Vuol dire che è 6 secondi cooldown. Bella, in un team fight lo attivi forse due volte. Certo! È proprio questo. Cioè, io capisco che non vogliono buffare le cose che danno tanto a Jarvan. Il suo hard engage, la sua suprema, la sua passiva. Allo stesso tempo sei là che guardi e dici Sì, no, è fantastico come buff. Grazie Riot, è stato molto bello a vedersi. Non lo so. Lo vede e sono tipo Meh, non fa differenza. Meh. Penso che se questo buff vada ad aumentare i suoi rate è perché letteralmente i pro player hanno cominciato a giocarlo e i buff precedenti l'abbiano aiutato. Non è questo quello che fa la differenza. Cioè, questo è il Oh, dai, proviamolo. Hanno continuato a buffarlo e Oh mio Dio, ma non è per niente male. Adesso Jarvan... Banana. Spesso e volentieri i pro player sono fissati con certi campioni che devi giocare a tutti i costi. Oh mio Dio. A volte non ha senso il motivo. E poi c'è Kaiza. Kaiza è... Kaiza è proprio stronza come campione. C'è troppe cose che funzionano per lei in pro player. Allora, ha capacità di gestire rinondata di minion in early game. Ha capacità di backline diving nel mid to late game. Mid to late game. Ottiene il mitico e i suoi alleati ingaggiano. Ecco il suo mid to late game. Ha una buona quantità di danno. Può permettersi di temizzare senza dover lasciare per forza di cose il mitico prendendo il pugnale seghettato, la serranite Dirk. Ok, quindi vai a ridurre la possibilità di controllo della corsia tra wave clear e utilizzo della Q per arrasse eccetera eccetera mettendogli due secondi in più sulla Q al rank 1. Al rank 2 invece è soltanto 1 e mezzo. Al rank 3 è solo un secondo. Al rank 4 e mezzo secondo. E al rank 5 è uguale. Ora, io non voglio essere stronzo. Ma questo farebbe differenza quando? Cioè, ok, allora, quindi tu hai come momenti di debolezza su Kaisa livello 2 e 3, dici perché non puoi rancare la Q in livello 4 comincia a scendere il cooldown a livello 5 ce l'hai a un secondo e mezzo di differenza da prima e da lì in poi è tipo, non conta. Quando principalmente in pro play viene utilizzato per tenere il controllo del wave e l'arras, non è che non viene utilizzato per arras è che vuol dire che si è esposto a un'aggressione all'avversario se tu puoi permetterti di aggredire con la Q. Boh, io sono convinto che rimuovere come punto di forza il fatto che tu possa cacchio cancellare i minion sarebbe magari abbastanza più importante però, di nuovo, sono io che penso forse togliere dei punti di forza sarebbe anche il caso di farlo visto che l'hai fatto con altri campioni ma Kaisa ha ancora tutti i suoi punti di forza dal lancio ma lo fai 5 danni in più e più 5% dello scaling dell'armatura non è un brutto buff è che non comprendo il perché di farlo allora lo dicono perché la Rumbleverse l'ha indebolito molto il nerf che ha subito e allora vogliamo cercare di aiutarlo perché poveretto ma il fight non è un campione che è messo male vogliono potenziare il suo trading in corsia non è male sotto quel punto di vista anzi è molto buono come modifica perché soprattutto uno guarda quel 10 da 10 a 15% di scaling con l'armatura è molto più forte di quello che ci si aspetta per un motivo perché quando hai lo scudo up hai il bonus dell'armatura e quindi quella che ottieni dagli oggetti e quella che ottieni dalla passiva in totale ti vanno a dare abbastanza armatura da dire boia se è worth boia se è worth non penso fosse necessario penso fosse... cioè attualmente i tank hanno un altro problema adesso chiunque abbia un minimo i sustain li distrugge perché la Brumbleverse non è stata nerfata è stata uccisa si tiene sotto controllo alcuni campioni non abbastanza è tipo... ok è una situazione davvero assurda perché la Brumbleverse almeno dava una valvola di sfogo ai tank per gestire effettivamente gli avversari e hai tolto l'unica parte che importava ai tank lo scaling con l'armatura per lasciare solo il danno flat che è quello che importava invece ai juggernaut e ai fighter ma se avessi aumentato lo scaling dell'armatura e tenendo il valore flat più flat i tank sarebbero stati contenti i Bruiser no non lo so cioè non lo so sono ormai sono ormai volevo farlo uscire questa settimana ma volevo aspettare anche la 11.12 per dire che cosa ne penso poi sono usciti i cambiamenti della 11.13 che esce un video domani damn it Riot state facendo cose giuste e sbagliate e tipo è metà e metà poi c'è il sistema di ranked che quello è un altro discorso ne ho già parlato in un altro video che il sistema di ranked è fatto male lo sappiamo tutti però se sei forte sali comunque tornando al discorso capisco il buff ne ha bisogno è colpa della modifica la Brumbleverse che ne ha bisogno lo ammettono anche loro e anche Rammus anche Rammus gli mettono 10 di armature in più e il cooldown della ulti che scena di 20 di 20-15-10 secondi letteralmente letteralmente soltanto perché hanno aver fatto la Brumbleverse perché hanno perso così tanto erano così dipendenti dalla Brumbleverse questi cambiamenti non che io sia triste che ricevano i buff per compensare il nerf della Brumbleverse e la Brumbleverse andata nerfata è solo la metodologia con cui hanno applicato il nerf tutto qua quello che mi triggera un pochino giusto un pochino Nasus la passiva della Lifesteal viene diminuita del 2% mi viene un po' da ridere perché è un nerf proprio mirato dal plat in giù proprio la Riot ha detto questo nerf è fatto per i giocatori che giocano tra il ferro e il gold 1 non è che colpisce solo loro ma loro lo percepiranno di più perché non puniscono correttamente chi ha sustain con le ferite mi fa troppo ridere mi fa troppo ridere perché è proprio un ragazzi questo qua è letteralmente un nerf per sotto il plat e basta se no lo avremo nemmeno inserito 2% di Lifesteal in meno non è roba da poco mi fa un po' ridere tutto qua parlando di campioni che mi verrebbe da prendere un cucchiaino molto caldo e del sale porca bui vedere vedere un campione perché in competitivo è comodo Renektona quel classico pick dominante che sanno sfruttare perfettamente bene capisco in competitivo è veramente forte perché sanno come usarlo bene ormai è sempre lo stesso campione da letteralmente in lancio l'unica cosa che hanno messo è stato il fatto che la W spezza gli scudi negli ultimi anni ma vederlo ancora così piccato quando dio mio quante poche cose può fare davvero bene cioè se sei perfetto puoi fare bene qualcosa e adesso viene nerfato ancora e quindi la gente di solo più è tiltata perché dicono cacchio è un campione con 47% di cui i rate di solo più e me lo nerfi è nerfato per il pro play questo è un nerf per il pro play io penso se solo pensassero a qualsivoglia campione che possa andare ad affrontarlo nell'early to mid game che poi scali meglio dire Nekton è frustrante è veramente frustrante serio non non so come altro dirlo è frustrante è frustrante da vedere perché continui a vedere i pro player essere adattati a giocare pochi campioni e poi questi campioni devono essere nerfati perché se no giocano solo quelli in pro play e la gente solo più e la dice vabbè raga che cazzo devo fare io di nuovo Renekton nel fall bella bella grazie un altro nerf al sustain soprattutto contro i non campioni e quindi è tipo per la fase di corsia dici ok va bene sono triste sono molto triste per Dardus questa è la E comunque sappiatelo per Dardus la W di Talon le lame che escono e poi rientrano è la E però noi sappiamo che è la W meno danno iniziale sulla porzione di andata un pochino più danno sulla porzione di ritorno se fai i calcoli fai la somma totale è un nerf a prescindere è fatto apposta perché stanno cercando di nerfare gli assassini stanno cercando di nerfare i danni basi in primis perché una volta che prendono vantaggio sono ingestibili per due motivi a perché hanno un trading power maggiore dei loro diretti avversari i maghi e b o altri assassini e b hanno un potenziale di roaming colossale su Kiana di recente hanno fatto un nerf proprio sul roaming apposta per tenere sotto controllo quell'aspetto perché in fase corsia può essere punita un pochino di più per Talon invece fanno l'approccio diverso nerfano la W che vuol dire meno trading power ma anche meno roaming power perché? perché la W è la spell necessaria per andare a pulire un data di minion in fretta e furia lo capisco mi viene triste mi viene triste i maghi fanno veramente cagare la gente dice oh mio dio la zona è sbroccata oh mio dio questo è sbroccato ma raga i maghi in cubo di divo non vengono giocati ormai vengono giocati perché letteralmente ti serve un ingaggio ma non sono dei supporti preferisci giocare karma mid lane da quanto i maghi siano cacchio inutili e in solo Q ci sono solo assassini ci sono alcuni assassini a P ma ci sono solo assassini come top meta purtroppo è questo il dolore di avere un gioco competitivo è questo ci sono patch in cui guardi questi sono solo nerf per i pro player e un dito medio alla community non alla community generale alla community che vorrebbe giocare a certi campioni se li vede nerfati che ok la maggior parte di noi non percepirà questo grande modifica allo stesso tempo sarà che dici vabbè bello subire dei nerf a casa sui campioni che mi piacciono grazie Udir la sua R finalmente viene nerfata questo buff era tipo uscito l'anno scorso che gli aveva messo 35 danni in più sulla Fenice e ora tipo perché? ero così confuso perché era uno di quei buff preventivi perché la giungla era stata modificata ero tipo perché l'hanno fatto e adesso viene rimosso hanno rimosso uno ad uno tutti i buff di Udir tutti assurdo assurdo fuori di testa beh tornando sempre al discorso i pro player non si abituano a giocare altre cose che sto morendo dentro sto morendo dentro davvero Varus anche lui nel fatto per il competitivo grazie competitivo che hai allora Varus non è neanche messo male cioè tu puoi giocarlo comunque l'etalità semplicemente non esplode le persone che gli manca un quarto della vita fine cioè fine nel momento in cui sei a bassa salute non hai un bonus del 25% l'ultimo rank da W ma del 21% se è 1,8 2,6 no è 1,8 2,4 3% 3,6% 4,2% sì è punto 6 per ogni rank up povero competitivo poveri pro player e povero competitivo davvero è proprio brutto è proprio triste oh vedi questo è un buff questo è un nerf invece che dico ha senso Wukong ha il 54% di win rate in mid e top e dici ok nerfatelo per favore sta distruggendo la solo Q e fa ridere perché tutti sono tipo Wukong mi sembra uguale a prima e poi guardi l'estate e dici è fucking insane .5 ad meno per livello vuol dire 8.5 ad meno a livello 18 lo scanning con la D invece della Q invece mi piace che venga nel fatto del 5% è un buon modo per tenerlo là tranquillo perché la Q è la spell che vai a spammare regolarmente grazie al fatto che ogni auto attacco va a ridurre il cooldown della Q grazie Wukong e quindi ci sta come modifica visto che hai buffato divine thunder e la black cleaver della scorsa patch vedremo 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 Ziggs questo è l'ultimo buff della patch io sono tipo questa è la dimostrazione che tutti gli oggetti da maghi fanno schifo questa è una missione di colpa da parte di Riot che dice tutti gli oggetti da maghi fanno schifo allora uno guarda e dice la possono 5, 10, 15 20 danni in più sulla Q di Ziggs mi sembra un po' drammatico sono danni base allora già Ziggs la sua build migliore è Sorcerer into Tempesta di Luden into Voidstaff a sto giro giuro le metto le icone con questo buff questa build è ancora più valida perché perché tutti i danni di Ziggs sono danni base altissimi e degli scaling sulla P buoni quindi tu non vai mai a prendere tanto potere magico ma vai prima per la penetrazione magica e poi vai per il potere magico grezzo il Rabadon è il terzo oggetto per questo motivo per Ziggs perché prima vai di Voidstaff prima vai di Luden e poi e prima ancora vai di Sorcerer proprio in sequenza i Sorcerer potete anche prenderli per secondo il punto è questo penetrazione magica penetrazione magica penetrazione magica e poi vai di potere magico questo va soltanto a incentivare ancora di più quella build e sarà così fottutamente ridicola la Q di Ziggs quando ti vecherà sai di tipo vabbè che cazzo devo fare ho appena perso un quarto della mia vita da una singola Q di Ziggs a livello 9 che gli devi dire a una persona che ti colpisce con una Q di Ziggs e ti ha tolto un quarto di vita cioè non che sia allora sia chiaro questo non è un Ziggs è OP oh mio dio no 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 Ziggs non è OP assolutamente Ziggs è in uno stato di bilanciamento anche buono ma il fatto che tu stia continuando mago dopo mago ad aumentare più i danni base che gli scaling è proprio una dichiarazione netta e schietta di i nostri oggetti AP fanno schifo dobbiamo baffare i danni base per forza di cosa a prescindere e le altre patch io dicevo vi ricordate su Lux su Xerat dicevo cavolo chissà come mai stanno baffando i danni base piuttosto che i danni sullo scaling sulla AP su Xerat avevano messo tanto scaling sulla AP e lo contendono che dico cavolo finalmente danno degli scaling sulla AP decenti e poi vedevo i danni base aumentati su Lux su Con eccetera eccetera e adesso su Ziggs i danni base dei campioni non sono più abbastanza alti per il potere magico che c'è in gioco fine questa è la conclusione del discorso non c'è abbastanza danno per i maghi infatti per quello vedete i maghi noiosi in competitivo tipo Orianna e adesso manco più quelli perché è stata nerfata Orianna Syndra troppo difficile da eseguire per la maggior parte dei player è un rischio troppo grosso meglio giocare qualcosa di più safe tipo karma karma terrificante no a serio è una situazione ridicola in cui c'è tipo una parte che sono convinti che i maghi siano OP perché hanno una zona che è stata brutalmente nerfata dall'ultima modifica del Seekers hanno vedo la Banshee anche quello nerfato nella stessa patch adesso sei qua che guardi dici beh siamo punti a capo i maghi avranno i danni base al T puoi giocare Ziggs super così e non conto neanche quello che è il buff della ulti quando gli metti un minimo di praticamente più velocità di animazione la spell cosa significa va più lontano più in fretta fine quando tu tiri una ulti da media gittata arriva molto prima fine del discorso l'1.2 è il minimo di travel time quad si dovrebbe fare dei calcoli su qual è il punto quindi in cui arriva prima la ulti Ziggs che è comunque 1.2 ma qual è la gittata dalla quale diventa più war dovrebbe essere tipo 1500 di range se non ricordo male aveva fatto il calcolo qualcuno e io sono qua che guardo e dico porca troia perché basta mettete della P in più mettete della P in più sui miti mettete della P in più da qualche altra parte mettete degli scaling mostruosamente più alti se no se volete tenere questo tenore di gioco non lo so i maghi sono meh per questo Swain sta trovando così tanto successo come carry me the bot lane anche se nessuno lo vuole giocare perché non è così semplice perché non è un vero mago è un mago da battaglia che letteralmente prende il lion riprende la demonic embrace l'abbraccio demoniaco bella sono un tank che fa danni percentuali sulla vita non puoi farmi letteralmente un cazzo mi rigenero così tanta vita che ti ricordo che dio non esiste e poi vediamo alla fine del game come siamo messi può distruggere un game da solo Swain e poi c'è e poi ci sono le resta di maghi questa è la mia risposta non so cosa stia facendo la Riot e per un po' posso capire che stiano lavorando a tante cose possono capire che stiano cercando di bilanciare il gioco in maniera diversa e dici questa patch non serve a niente ci sono dei momenti in cui guardi e dici questa patch non serve a niente tranne che per il competitivo vi ricordate come vi dicevo tempo fa che c'è una moria di contenuti da parte di Riot c'è una moria di contenuti a livello di bilanciamento la top lane è l'unica lane che è stata veramente influenzata per tutta la season e le altre lane sono in stasi immobili nel tempo escludendo in giungla Morgana e Rumble fine già rimossi e Karim questi tre il resto è tutto uguale identico non è cambiato niente a livello di bilanciamento la corsia centrale c'è stato il buff di Anivia a inizio season che ha cambiato un pochino Anivia adesso è effettivamente giocabile in corsia centrale quasi sempre e ci sono gli assassini questa è la corsia centrale per la solo queue per il competitivo è stata abbastanza variegata ma principalmente maghi da late game scaling e tiratori ci sono molti più tiratori mid lane che maghi questo dovrebbe essere un segnale abbastanza preoccupante poi c'è la bot lane che è Kai'Sa 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 e adesso è tornata e adesso è tornata in auge perché? perché hanno neer fatto Kai'Sa perché hanno neer fatto altri campioni cioè il supporto è sempre il stesso il supporto hard engage o hard engage o muori io dico c'è una moria di bilanciamento ok sì c'è un nuovo sistema di oggetti che va bilanciato e tutto quanto sto vedendo le stesse cose da mesi se non giocassi top lane vedrei la stessa identica roba ogni giorno in solo queue wow divertente grazie grazie